ciao allora facciamo questo challenge sono tre esercizi per tre minuti tre esercizi o in tre minuti ognuno sono jerk long cycle e snatch questo challenge organizzato dalla nostra squadra catbell bulls di vercelli nostro coach alessandro duo e si parte facciamo questi 9 minuti rest 30 secondi ogni tre non 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 Grazie a tutti. 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 Me l'ho dimenticato. Peso 24 kg. Non saigo. 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 Grazie a tutti. 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 Ciao, ciao.